I titolari dell'Ales Pelletterie di Tolentino, Sauro Tiberi, Lanfranco Vitali ed Edoardo Mattioli, sono stati ricevuti a Palazzo delle Marche per ricevere un riconoscimento meritato. Imprenditori che sono stati impegnati con la loro impresa a portare il Made in Marche in Italia e all'estero. Maestri artigiani che sanno dar vita a creazioni che affondano le radici nella tradizione, ma guardano al futuro e utilizzando tecniche avanzate per interpretare al meglio le richieste dei mercati di riferimento, curando i dettagli a partire dalle materie prime. Un'ampia soddisfazione per questo riconoscimento dopo 30 anni di attività. Siamo nati in pochi, quindi con i miei sogni, con Sauro Tiberi e Lanfranco Vitali. Dopo 30 anni abbiamo una realtà sul territorio, questa realtà di pelletteria, piccola e grande pelletteria. Lavoriamo per grandi nomi, per firme internazionali. Mercoli scorso abbiamo ricevuto anche un riconoscimento da parte della Gianni Versace come attività di pelletteria, quindi come fornitore principale. Questa attività è andata avanti e speriamo che il futuro, anche per Tolentino, che è stata sempre la pelletteria e il fiore all'occhiello come attività, abbia una crescita, perché attualmente vediamo che molte aziende sono scomparse, sono giuste. È un'attività che non andrebbe persa, altrimenti lasciamo in mano tutto alla Toscana, che è la regione principale per quanto riguarda l'attività di pelletteria. Noi ce la mettiamo tutta, andiamo avanti, seguitiamo e speriamo che qualche giovane ci segua. Ma accanto a questa solida esperienza nel saper fare marchigiani, si affianca una vocazione sociale per il territorio della provincia di Macerata, Tolentino in primis. Infatti, la ala se pelletterie sta contribuendo da oltre 30 anni alla crescita sociale, occupazionale e quindi anche economica dell'intera zona. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.